Dopo la morte di Paul Walker nel novembre del 2013, la saga di Fast and Furious sembrava destinata a terminare. Arrivarono poi i fratelli di Paul, Cody e Caleb Walker a prendere il suo posto e a dare nuova vita al personaggio di Brian O'Connor grazie alla grafica computerizzata. Fast and Furious 7 riuscì ad arrivare anche alle vete dei botteghini, ma nessuno pensava di poter fare Fast and Furious 8 e invece Vin Diesel dall'annuncio. L'ottavo episodio si girerà e sarà ambientata a New York e ruoterà attorno alla figura di Kurt Russell. Si vocifera anche di un ritorno nel cast di Eva Mendes che potrebbe riprendere i panni di Monica Fuentes. I fratelli Walker che fine faranno invece? Pare che la produzione li stia attentando per l'ottavo episodio della saga, questa volta non ad interpretare il ruolo di Brian O'Connor ma a vestire i panni di due fratelli segreti di quest'ultimo, lontani ma con la stessa passione e lo stesso talento per i motori. Senza Paul non sarà ovviamente più lo stesso, potranno però consolarci i suoi fratelli?